buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi vedete questo magnifico croccante anziché il mio viso perché vi vorrei proporre una ricetta veramente facilissima e velocissima da preparare ossia il croccante con le mandorle vi lascio al tutorial per fare il croccante dovrete mettere a riscaldare una padella con il bordo alto a fuoco basso poi mettere 150 g di zucchero sul fuoco e aggiungere 100 g di mandorle sgusciate io le utilizzo così al naturale non le vado a tostare prima quindi questa è la mia ricetta è molto semplice dovrete semplicemente mescolare lo zucchero alle mandorle finché lo zucchero non si sarà completamente sciolto quindi è un processo veramente facilissimo però è un pochino lungo e richiede un pochino di attenzione soprattutto perché dovete fare attenzione che lo zucchero non si bruci a un certo punto noterete che lo zucchero comincia a sciogliersi e cominciano a formarsi dei piccoli granuli bianchi vedete questa fase di cristallizzazione dello zucchero è assolutamente normale ma poi perseverate continuate a mescolare vedrete che si scioglierà tutto adesso come potete vedere lo zucchero si è sciolto completamente vedete e adesso è molto semplice bisogna andare a trasferire tutto questo composto in in un tegame io uso un tegame lungo in modo da fare proprio la forma del torrone io utilizzo un tegame come questo e vado semplicemente a vuotare tutto il contenuto all'interno di questo tegame poi mi aiuto con il cucchiaio per andare a dargli una forma rettangolare ecco qua questo è il croccante nel suo stampino adesso bisogna semplicemente aspettare che si raffreddi questo è semplicemente un tegame per plum cake quindi è una cosa reperibile e facilmente utilizzabile da tutti questo è il risultato finale ho tolto il croccante dal tegame ho tolto la carta forno l'ho messo su un vassoio e questo è il risultato che otterrete alla fine di tutta l'operazione vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un like al video se vi è piaciuto vi do appuntamento alla prossima grazie a tutti